Il messaggio che sta passando è un messaggio che noi crotonesi abbiamo perso la dignità ma non vogliamo fare nulla per recuperarla. Abbiamo perso il coraggio, abbiamo perso il coraggio di lottare per la nostra terra. È inutile fare slogan, ciascuno, sì io amo Crotone, amo Crotone, ma quando si ama Crotone? Solo allo stadio. Crotone è la nostra terra, è quello che noi appestiamo, non solo una maglietta rosso-blu. Noi viviamo a Crotone, viviamo sulle strade, viviamo negli ospedali, viviamo tramite i treni e tramite gli aeroporti e ci colleghiamo. Però se non abbiamo questo, non siamo crotonesi, se non otteniamo per questo, che futuro dobbiamo dare ai nostri figli? Non abbiamo nessun futuro per i nostri figli. La cosa che fa più specie è il fatto che la politica doveva essere presente qua, diciamolo chiaramente. La politica oggi è assente, è assente la politica ma è assente anche le istituzioni. 50 sindaci invitati hanno risposto solo in pochi, pochissimi. Hanno risposto poco e niente nelle scuole. Noi abbiamo chiesto ai presidi di partecipare, mandare una delegazione, tutti assenti. Che senso è studiare la Costituzione a scuola se dopo non si fa capire che bisogna lottare per quei diritti. Averli su una Costituzione senza lottare non serve a nulla. Allora, un messaggio chiaro quello che hai lanciato dicendo alla città che non se ne può più di queste condizioni, di questa assenza dei cittadini, di questa assenza delle istituzioni, perché non è che stiamo parlando di un bene privato, stiamo parlando di un bene comune. Assolutamente sì, Giuseppe. Noi stiamo parlando di un bene per tutta la comunità, ma non solo la comunità crotonese. Noi parliamo della comunità, della provincia di Crotone, della fascia ionica che interessa tutti quanti. Io sono contento che oggi qui vicino a noi ci sia il sindaco di scandale. Vuol dire che sente questo bisogno di scendere insieme a noi. E noi ringraziamo lui e tante altre persone che vengono a noi, solo come cittadini però, gentilmente, perché la politica è tutta un'altra cosa. Non ne vogliamo sapere più. Basta. Allora, noi provochiamo, facciamo una provocazione. Diciamo alla Regione Calabria, al Chiaro e Tondo, al Presidente Oliverio, al sindaco nostro, alla nostra cara amata consigliere regionale, Flora Sculco. Noi stiamo dicendo che bloccheremo la 106. Fino a quando non verrà qualcuno da noi a dirci perché adesso siamo stufi. Non ce la facciamo più. Siamo arrivati a un punto di totale e proprio abbondono. Pertanto, signori miei, bisogna prendere un provvedimento. Ci stanno prendendo in giro. Ha voglia di fare tavoli e tavoli su tavoli. In Italia, specialmente in Calabria, quando si fanno i tavoli non si vuole fare niente.